Da questo momento ho avviato la registrazione e la trascrizione del nostro incontro. Benvenuti a tutti, buongiorno a tutti e a tutti coloro che si sono collegate, do il benvenuto innanzitutto al direttore dell'unità di missione PNRR del Ministero della Cultura, l'ingegnere Angela Antonio Orlando, alla dottoressa Veronica Cecchetti di Invitalia e con me la dottoressa, l'architetto Laura Biagi, nuova collega in carica, funzionario di elevata qualificazione che si occupa appunto della conservazione, del restauro del patrimonio culturale. È collegata anche la dottoressa Valentina Galloni di Anci Emilia Romagna e verifico, ci aveva dato la disponibilità a collegarsi, ma con qualche difficoltà anche il dottor Luciano Gallo che non riesce perché è in viaggio. Grazie Valentina di essere con noi. Questo incontro è stato programmato molto volentieri per contribuire insieme quindi Regione Emilia Romagna, Ministero della Cultura, Anci Emilia Romagna a promuovere, far conoscere, presentare l'avviso pubblico per il sostegno di iniziative imprenditoriali realizzate nei comuni che sono risultati assegnatari delle risorse per l'attuazione dei progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici nell'ambito del PNRR, vale a dire i nostri 12 progetti finanziati, nostri intendo dire all'interno del territorio della Regione Emilia Romagna, finanziati sulla linea B. Sono collegati alcuni referenti anche di questi comuni e che saluto e che ringrazio, saluto anche la dottoressa Rossella Almanza che non si è collegata, è invitata ma non è ancora collegata. Questo per dirvi che questo bando, questo avviso pubblico è rivolto a sostenere iniziative imprenditoriali e quindi è rivolto a piccole e medie imprese e soggetti che devono andare a potenziare gli effetti e i contenuti del progetto di rigenerazione urbana che si è già avviato e che è in attuazione e che vede come soggetti attuatori appunto i nostri 13 comuni su 12 progetti perché abbiamo un progetto presentato in forma aggregata dai comuni di Berceto e Calendasco. Noi siamo conoscenza di incontri che per presentare, spiegare e descrivere al meglio le potenzialità, le occasioni che questo avviso presenta e offre al mondo imprenditoriale della piccola e media impresa in un'ottica appunto di economia circolare, in un'ottica di sviluppo e attuazione di progetti imprenditoriali che fin d'ora ci diano il più possibile la garanzia che tutto lo sforzo che stiamo facendo con il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza possa davvero mettere sane radici oltre il 2026, quindi sono misure in capo all'amministrazione titolare e al Ministero della Cultura e ne siamo molto orgogliosi perché la rigenerazione dei territori passa attraverso degli interventi che sono trasversali e che sono profondamente culturali, anche quando parliamo di sviluppo economico e sviluppo sociale, la leva è il genus loci, è quello che viene rappresentato e che è l'identità dei nostri luoghi e quindi questi 12 progetti che sono molto interessanti e la cui scheda è presente sul sito del PNRR, del Ministero, ma anche abbiamo riportato sul sito della Regione Emilia Romagna del settore patrimonio culturale per rendere possibile la lettura e quindi anche l'approfondimento delle caratteristiche di questi progetti perché quello che interessa di più e lo vedrete poi nella descrizione, nel dettaglio che faranno i nostri ospiti relatori è trovare la profonda coerenza delle proposte imprenditoriali che verranno presentate e che sono presentabili dall'8 giugno fino all'11 settembre appunto sulla piattaforma di Invitalia, devono sposarsi in maniera coerente con la logica generale del progetto che i singoli soggetti attuatori, cioè i nostri 13 comuni stanno portando avanti. Quindi questa è un'occasione per noi importante per fare da cassa di risonanza per questo avviso. Sappiamo che sono ormai molti gli avvisi pubblicati sul PNRR, nell'ambito del PNRR, nell'ambito anche della nostra programmazione regionale FESR che stanno bussando alla porta e si stanno offrendo come opportunità davvero incredibile a livello di progettualità per il mondo imprenditoriale anche delle imprese culturali e creative. Tenete presente che adesso noi daremo la parola innanzitutto all'ingegnere Orlando che ringrazio nuovamente per un'introduzione su questo bando e poi sicuramente alla dottoressa Veronica Cecchetti che interrà più nello specifico della presentazione delle domande, delle modalità e di come approcciare la piattaforma, ma poi vorremmo dare spazio alle domande che potete scrivere in chat e con l'aiuto appunto della collega d'architetto Laura Biagi cerchiamo di tenere l'elenco delle domande da sottoporre ai nostri relatori. Poi chiederei anche alla dottoressa Valentina Galloni in rappresentanza di Ance Emilia Romagna poi di portarci un suo saluto. Bene, quindi non perdiamo tempo perché il tempo è prezioso per tutti noi, in particolare per l'ingegnere Orlando e lascio la parola direttamente a lui. Grazie. Buongiorno dottoressa, buongiorno a tutti, grazie per l'invito e grazie soprattutto per aver promosso e organizzato questo incontro per fare, come diceva lei, cassa di risolanza per questo avviso che riteniamo fondamentale. Quindi ancora grazie. Grazie anche alla rappresentante dell'Anci, la dottoressa Galloni, perché insieme al coordinamento delle regioni e alle regioni è sempre, diciamo, al fianco in questo percorso che stiamo portando avanti con la massima condivisione e confronto in tutti i nostri atti, quindi sia ANCI, sia coordinamento delle regioni, ma anche UBI, diciamo, portiamo avanti i nostri investimenti cercando di coordinarci e di condividere le procedure e non che gli atti. Un ringraziamento anche ai rappresentanti dei comuni per aver partecipato a questo incontro. Come diceva benissimo la dottoressa Ambrosini, è un avviso fondamentale questo del sostegno alle imprese, l'avviso di sostegno alle imprese nei borghi finanziati della linea B dell'investimento a trattività dei borghi. Voi sapete benissimo, il Ministero della Cultura ha voluto fortemente, diciamo, l'investimento a trattività dei borghi, rappresenta un quarto, il 25% delle complessive risorse assegnate al Ministero della Cultura. Il Ministero della Cultura totalmente ha 4 miliardi e 275, un miliardo di euro è dedicato all'investimento 2.1 a trattività dei borghi, quindi ci teneva, diciamo, il Ministero ha puntato molto su quello che è il, diciamo, lo dico in maniera impropria, sui siti minori, su quello che è un po' il turismo diffuso. E come diceva la dottoressa Ambrosini, questa riqualificazione dei nostri piccoli borghi ha come elemento trasversale la cultura, che è l'anello di congiunzione di tutti quanti. La volontà del Ministero, la strategia del Ministero ha avuto poi una risposta forte da voi comuni, ecco, da tutti i comuni, perché, ecco, sull'avviso della linea B, in cui erano, diciamo, a bando circa 380 milioni, noi abbiamo avuto un numero di domande enorme, quasi 1.800-1.794, per oltre 3 miliardi di euro, pensate che 2 miliardi e mezzo di euro di domande, di proposte risultate sufficienti. Noi ne abbiamo potute finanziare solo una parte relativamente ai 300, circa 380 milioni. Quindi questo ha dimostrazione del grosso successo del Bande e dell'ottima risposta da parte dei comuni nel presentare le proposte progettuali. Detto questo, ecco, veniamo all'avviso di oggi, che sicuramente saprà, che illustrerà in maniera più dettagliata negli elementi tecnici la dottoressa Veronica Cecchetti di Invitalia, magari anche con l'ausilio di una presentazione, quindi molto più chiara, molto più chiara sicuramente la sua illustrazione, però ci tenevo a dire alcune cose su questo avviso. Ecco, questo avviso è il complemento, è complementare al progetto di riqualificazione che in questo caso i 12 progetti e i 13 comuni hanno presentato e sono stati finanziati. Oltre alla riqualificazione del borde attraverso la ripresa, la riqualificazione, la valorizzazione di immobili, ma anche i servizi che sono previsti all'interno dei progetti di riqualificazione, ritenevamo necessario, era previsto nella scheda del PNRR a suo tempo presentata e approvata dall'Europa, ritenevamo necessario anche fare un qualcosa che avesse anche una leva economica, ossia quella di incentivare le imprese piccole, micro, piccole e medie imprese, in questi luoghi e il ventaglio di imprese è il più largo possibile. Non è solo questo avviso, non è solo dedicato alle imprese culturali e creative, ma è legato alle imprese artigianali, econastronomiche, commerciali, il bar, il panettiere. Si vuole con queste recuperare e far mettere le radici in questi borghi di quelli che sono i saperi, tradizioni delle stesse. Da Campano, mi auguro che nei comuni della Campania si riprenda quello che era il pienolo, la tradizione del pieno, il pomodoro del pieno, che è una tradizione campana. In Emilia Romagna mi aiuterete voi a capire quali possono essere quelle che più rispondono alle tradizioni dell'Emilia Romagna. Come dicevo, quindi è fondamentale e complementare perché si mette radice in questi borghi. L'avviso ha una dotazione di 188 milioni a favore delle imprese. Il nostro target dobbiamo raggiungere almeno 2.500 imprese in tutta Italia, quindi mediamente sono circa 10 imprese per singolo comune. Ogni comune ha già la sua dotazione fissata dall'avviso, quindi una dotazione nel caso dell'Emilia Romagna sono complessivamente 10 milioni, con un importo medio per il 12 su 13 di circa 840 mila euro per comune dovuto alla ripartizione che abbiamo fatto. Mentre il comune in aggregazione, Bergeto, Berceto e Calendasco arrivano a 1 milione e 96 mila euro, quindi già è indicato l'importo degli stessi da finanziari. Come dicevo, fondamentali sono questi incontri e fondamentali sono anche gli incontri che i comuni vorranno promuovere presso loro e territori in modo da far conoscere questo avviso, mettere in condizione alle imprese di conoscere l'avviso, ma di conoscere soprattutto quello che sono le esigenze del comune. Quali servizi, quale imprese sono necessarie nel comune? È necessario un ristorante, è necessario un palloporto al basso, è necessario un bar, può essere necessario invece un infopoint perché avete fatto la pista ciclabile e quindi l'infopoint che vi dà maggiore efficacia a questa pista. Quindi è fondamentale che i comuni portino a conoscenza delle imprese che vogliono fare le loro proposte, quelle che sono le strategie del loro progetto di riqualificazione presentato e finanziato nell'ambito della linea B. Ciò è anche riportato in quello che è il nostro avviso, ossia che uno dei requisiti, dei criteri di valutazione fondamentale è il criterio, vado a memoria, il criterio D, che è la capacità della proposta imprenditoriale ad essere aderente e coerente alla strategia del progetto a suo tempo presentato e finanziato, quindi alle esigenze del comune. In tal senso, anche per rimarcare e dare la giusta importanza e anche la corretta valutazione di questo requisito, nel bando è previsto che la valutazione dello stesso sia fatta da un comitato apposito che in maniera parallela, cioè in tempi paralleli rispetto agli altri requisiti che valuterà in vitale tutte le sue commissioni, quindi in vitale valuterà l'assetto strutturale, capacità di generare benefici nel bull, la fattibilità tecnica e sostenibilità economica della proposta progettuale, questo comitato che sarà presieduto da un componente del Ministero della Cultura e avrà sull'interno due componenti del lanci, quindi vicino al territorio e delle regioni, altrettanto conoscenti del territorio, quindi sarà un comitato che ha la conoscenza territoriale. Questo comitato invece valuterà quella che è la connessione dell'iniziativa imprenditoriale con il progetto locale di riqualificazione culturale e sociale promosso dal comune e finanziato da noi il giugno 2022. Quindi ribadisco e chiedo ai comuni, come ne sono sicuro che sarà in tal senso la loro risposta, di portare a conoscenza le esigenze del comune, quindi pubblicizzare questo avviso nei loro comuni. A tal riguardo faccio presente che come allegati dello stesso avviso, non ricordo bene se è l'allegato 3 o l'allegato 4, poi la dottoressa Cecchetti ci darà un po' confetti, sono state allegate le sintesi abbastanza corpose, però non sono sintesi proprio sintetiche, le sintesi corpose della strategia del progetto locale di riqualificazione. Ciò per consentire a tutte le imprese di poter fare, di proporre una proposta che sia in linea con quelle che sono le esigenze, mi ripeto spesso, del comune. Quindi io mi fermerei qui e lascerei la parola alla dottoressa Cecchetti, ovvero passo la parola alla dottoressa Ambrosini che sta coordinando, che sicuramente illustrerà l'avviso nei dettagli tecnici necessari, rimanendo comunque a disposizione come diceva l'autoressa per domande successivamente. Grazie. Sì, grazie ingegnero Orlando. Rimarchiamo appunto che questo avviso è rivolto a soggetti, piccole e medie imprese e altri soggetti che poi vanno meglio specificati, per proposte non soltanto di imprenditoriali legate alla cultura, ne avevamo discusso tanto, noi vogliamo con questo avviso concretamente arrivare a far sì che le persone che già abitano nel borgo continuino a restarci e possano godere dei servizi essenziali migliorati nella qualità, che i servizi si possano ulteriormente sviluppare e anche innovare e quindi il progetto che è come l'ingegnero Orlando è del borgo legato appunto al progetto dei comuni che l'hanno presentato, è disponibile con schede che sono ben organizzate perché sono chiare ma sono corpose e questo aiuta veramente i soggetti imprenditoriali a riconoscersi e a immaginare appunto poi di decidere, speriamo, di presentare delle proposte. Bene, lascerei la parola subito alla dottoressa Cecchetti che penso abbia una presentazione. Sì sì, buongiorno a tutti, sono Veronica Cecchetti e sono qui appunto in qualità di referente di Invitalia che è il soggetto gestore della misura. Prima di cominciare con la presentazione appunto chiede l'autorizzazione per poter condividere lo schermo perché c'è un breve powerpoint che potrebbe aiutare appunto, allora provo a condividere, dovreste riuscire a vedere. Stiamo vedendo, perfetto. Perfetto, d'accordo, allora appunto oggi vi presenterò il bando imprese Borghi e in particolare la linea di intervento finalizzata a sostenere le iniziative imprenditoriali proposte dalle micro, piccole e medie imprese profit e non profit che intendono realizzare dei progetti imprenditoriali all'interno dei comuni assegnatari di risorse per i progetti locali di rigenerazione e quindi risultano assegnatari di risorse per la linea di intervento B. Allora provo ad andare avanti, ok. Quindi oggi vi fornirò qualche riferimento normativo in relazione alla misura, quindi al decreto di riferimento e l'avviso pubblico, gli obiettivi, quindi le finalità e l'ambito di intervento finanziario, le modalità di presentazione della domanda, chi sono i soggetti realizzatori, quindi quali sono i requisiti di accesso formali, fondamentali per poter presentare domanda su questa misura. Il programma di spesa ammissibile, quindi come di fatto deve essere composto e di conseguenza quali sono i contributi concedibili. Vi presenterò poi infine un breve focus sulle modalità di concessione e derogazione dei contributi, fornendovi anche qualche indicazione relativamente a qualche allegato dove poter di fatto reperire ulteriori informazioni. Allora, l'incentivo imprese e borghi promuove quindi l'avvio o il consolidamento di iniziative imprenditoriali da localizzare nei territori dei comuni assegnatari di risorse, quindi per la realizzazione dei progetti locali di rigenerazione. Questa rigenerazione è una rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi abbandonati o a rischio abbandono. Infatti questa linea di intervento è in linea con quelli che sono gli obiettivi dei progetti locali di rigenerazione culturale e sociale, che di fatto hanno la finalità di rilanciare le economie da un punto di vista anche occupazionale e contrastare lo spopolamento dei piccoli borghi, incentivando che cosa? La creazione di servizi diversificati per la popolazione. Quindi in linea con le finalità dei progetti locali, le imprese sono chiamate a presentare dei progetti volti a favorire la ricostruzione del tessuto economico locale. Quindi di fatto in linea con questi macro obiettivi, le imprese possono presentare dei progetti volti a rispondere a dei bisogni specifici del territorio di riferimento. Quindi l'avviso è rivolto in questa linea di intervento prettamente alle imprese. Come riferimenti normativi troviamo il decreto 497 del 12 maggio di pubblicazione dell'avviso pubblico. Quindi di fatto il sostegno è destinato a progetti imprenditoriali volti a rilanciare le economie locali, ma nel campo di svariate attività, quali possono essere attività culturali, creative, turistiche, ma anche commerciali, agroalimentari, artigianali, volte di fatto a valorizzare i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio. Possiamo fare qualche esempio. I progetti potranno ad esempio prevedere l'offerta di prodotti o servizi diversificati sia per la popolazione locale ma anche per i turisti, magari atti a rispondere a delle esigenze di target specifici di popolazione, quale ad esempio bambini, soggetti più fragili, soggetti con disabilità, oppure offrire servizi alle famiglie. Oppure potranno presentare o creare occasioni di occupazione per le comunità locali, quindi prevedere delle assunzioni a tempo indeterminato al fine di realizzare il progetto presentato, ma anche potranno presentare iniziative volte alla sostenibilità ambientale, quindi magari alla riduzione dei consumi, delle emissioni inquinanti o soluzioni di economia circolare. Il focus particolarmente importante e rilevante per questa linea di intervento è che tutte le iniziative dovranno essere strettamente correlate e sinergiche con i progetti locali di rigenerazione presentati dai comuni. Per quanto riguarda la dotazione finanziaria, al netto ovviamente degli oneri per le attività di gestione della misura è pari a 188 milioni. Di questi 188 milioni il 40% è riservato alle regioni del Mezzogiorno, che ricordiamo essere Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Quindi di fatto con questa linea di intervento si prevede di finanziare circa 2500 imprese e quindi saranno interessati, che operano di fatto nei 294 piccoli comuni, di cui 170 sono localizzati nel centro nord e 124 nel Mezzogiorno, al fine di attuare i 211 progetti locali di rigenerazione culturale sociale dei piccoli borghi storici. Le agevolazioni sono concesse tramite un procedimento a graduatoria, le domande possono essere presentate esclusivamente tramite piattaforma online di Invitalia, quindi a partire dalla data di chiusura della presentazione delle domande, Invitalia avvierà una valutazione formale delle proposte progettuali al fine di verificare la sussistenza dei requisiti minimi di accesso, quindi dei requisiti formali. Una volta che i progetti avranno un esito positivo sotto questa prima analisi puramente formale di requisiti di accesso, verrà avviata la fase di valutazione. La valutazione per questa linea di intervento avverrà contemporaneamente da parte di Invitalia e da parte del Comitato per la valutazione della coerenza dell'iniziativa con il progetto locale. Quindi la valutazione di merito sarà articolata contemporaneamente in queste due tipologie di valutazioni. Invitalia cosa andrà a valutare? Andrà a valutare l'assetto strutturale del soggetto realizzatore, dove per assetto strutturale intendiamo quindi le competenze e le esperienze del team di progetto, quindi in termini di soci, di dipendenti, di collaboratori esterni, ma anche l'eventuale presenza all'interno del team di progetto di una componente femminile o una componente giovanile e quindi sarà previsto di fatto un punteggio premiale qualora appunto ci sia una maggioranza di donne o di giovani, dove per giovani noi intendiamo soggetti fino ai 41 anni di età non compiuti alla data di conclusione della possibilità di presentare la domanda, quindi non compiuti entro l'11 settembre, ma anche verrà valutata la capacità ovviamente dell'iniziativa di generare dei benefici all'interno del borgo e quindi verranno valutati in relazione a questo aspetto tutti quegli impatti che l'iniziativa può di fatto generare, quindi in termini di impatto occupazionale, quindi come diciamo prima, se se al fine di realizzare l'iniziativa sono previste delle assunzioni per realizzare il progetto, oppure anche in termini di rilevanza sociale, quindi quanto questo nuovo prodotto o servizio può rispondere alle esigenze locali del borgo o del comune, magari appunto come dicevamo prima, quanto questo prodotto può rispondere a delle esigenze particolari di alcune fasce di popolazione specifica, ma anche una rilevanza di tipo culturale e turistica, quindi servizi di fatto volti ad incrementare gli aspetti più culturali e turistici del territorio di riferimento, ma anche interventi volti a ridurre i consumi o le emissioni inquinanti, quindi nel rispetto degli obiettivi del tagging climatico. In vitalia valuterà anche la fattibilità tecnica del progetto e quindi di fatto l'individuazione di tutti quegli elementi che sono fondamentali al fine di realizzare il progetto stesso, quindi ad esempio se deve essere puntualmente identificata la sede oggetto dell'investimento, che dovrà ovviamente ricadere all'interno di uno dei comuni assegnatari delle risorse per la linea di intervento B, oppure la presenza di eventuali preventivi riguardanti il programma di spesa richiesto a finanziamento, l'individuazione dei fornitori, l'individuazione di un'analisi di mercato coerente con gli obiettivi previsti dal progetto presentato. È previsto anche un punteggio premiante qualora vengano individuati alcuni partner locali fondamentali magari per la realizzazione del progetto, che comunque in qualche modo possono sostenere l'iniziativa presentata in qualche maniera. Verrà valutata poi anche la sostenibilità economica del progetto presentato e quindi in termini di definizione degli obiettivi economici previsionali dell'iniziativa, in relazione ovviamente all'analisi di mercato svolta, oppure in relazione a un'analisi dei costi operativi da sostenere. Un elemento particolarmente rilevante da evidenziare in questa fase di valutazione sarà l'individuazione del 50% degli investimenti che dovrà essere coerente con gli obiettivi previsti dal tagging climatico. Su questo aspetto ci ritorneremo tra poco quando presenteremo un focus sul programma di spesa. quindi contemporaneamente a questa valutazione fatta da Invitalia il comitato invece tecnico esterno valuterà appunto la connessione dell'iniziativa presentata con il progetto locale assegnatario di risorse. Quindi sarà fondamentale anche appunto come dicevamo prima valutare il progetto presentato dal comune che ricordo diciamo questi stralci di progetti sono presenti anche sul sito di Invitalia e l'allegato di riferimento è l'allegato numero 3 dove di fatto da quei documenti si possono evincere le finalità del progetto presentato dal comune e valutare quindi la coerenza della propria iniziativa con queste finalità. Ora chi sono i soggetti realizzatori di fatto? Chi sono i soggetti che possono presentare domanda di finanziamento su questa misura? Allora possono presentare domanda di finanziamento le micro piccole e medio imprese costituite o che intendono costituirsi quindi anche le persone fisiche e quindi che intendono costituirsi in forma di ditta individuale societaria di capitali di persone o società cooperative. Possono anche presentare domanda alle associazioni riconosciute o non riconosciute purché queste siano costituite tramite un atto scritto registrato all'agenzia delle entrate e siano in possesso di un codice fiscale. Possono anche partecipare le fondazioni, le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit e gli enti del terzo settore purché siano iscritti o in corso di iscrizione al RUNS quindi a registro unico nazionale del terzo settore. È prevista inoltre la possibilità di presentare domanda attraverso un'aggregazione quindi in un minimo di tre e in un massimo di cinque soggetti diciamo i soggetti realizzatori potranno partecipare ad un progetto in aggregazione. Ovviamente questa rete dovrà essere formalizzata attraverso degli accordi scritti di collaborazione e ovviamente alla data di presentazione della domanda quindi in questa maniera ogni soggetto di fatto presenterà un proprio progetto che dovrà essere funzionalmente autonomo quindi verrà valutato nella sua singolarità ma dovrà anche essere sinergicamente connesso con gli altri e quindi di fatto dovrà partecipare insieme agli altri appartenenti alla rete alla realizzazione degli obiettivi comuni. Allora cosa e quanto viene finanziato? I progetti ovviamente devono essere sempre avviati successivamente alla presentazione della domanda. Devono essere di importo non superiore ai 150 mila euro. Al netto ovviamente di IVA ove questa non rappresenta un costo per il soggetto realizzatore qualora invece rappresenti un costo quindi come ad esempio in alcuni casi per le associazioni l'IVA può essere richiesta a finanziamento. Ovviamente questo aspetto dovrà essere specificato all'interno della scheda progetto dell'iniziativa e comunque sia però l'importo non potrà essere superiore a 150 mila euro. I progetti dovranno avere una durata quindi non superiore ai 18 mesi e questo arco temporale va a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione ma comunque sia tutte le attività dovranno concludersi tassativamente entro il 31 12 2025. I progetti dovranno essere conformi agli orientamenti tecnici eh sull'applicazione del DNSH quindi prevedere di fatto iniziative che non arrechino un danno significativo all'ambiente e dovranno ovviamente rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR quindi per il raggiungimento del degli obiettivi del tagging climatico e quindi prevedere un 50% delle spese ehm che deve essere coerente con gli obiettivi fissati dal tagging climatico. Le agevolazioni sono concesse eh nella forma di contributo a fondo perduto eh per un importo fino al 90% ehm del programma di spesa ritenuto ammissibile. questa percentuale del 90% può essere elevata al 100% nel caso di nuove imprese e nel caso di imprese che sono già costituite ma che sono a prevalente titolarità giovanile o femminile. Ricordiamo che per prevalente titolarità noi intendiamo un numero di soci quindi che siano prevalente titolarità giovanile come abbiamo detto prima quindi di un'età ehm compresa tra i 18 e 41 anni non compiuti eh all'11 settembre e o femminile. Ovviamente eh l'importo sarà calcolato sulla base delle spese che sono ritenute ammissibili e comunque non potrà mai superare il limite di settantacinque mila euro. Le agevolazioni ricordiamo anche che sono concesse ai sensi e eh nei limiti del regolamento dei minimis. Quindi per quanto riguarda invece il programma di di investimento eh possono essere richieste a finanziamento spese di investimento e spese di capitale circolante. Per spese di investimento si intendono impianti, macchinari, attrezzature, arredi ma anche mezzi mobili purché essi ovviamente siano funzionali al ciclo di produzione ed erogazione dei servizi. Eh ma anche beni immateriali ad utilità pluriennale quali ad esempio eh programmi informatici, marchi, licenze, certificazioni ovviamente sempre strettamente correlate all'iniziativa presentata. Possono anche essere richieste a finanziamento opere murarie ma nel limite massimo del 40% del progetto di spesa ammissibile. Ricordiamo ancora una volta perché è un elemento fondamentale quindi è un criterio di accoglibilità poi della domanda. eh per quanto riguarda le spese di investimento un 50% il 50% delle spese deve essere in linea con gli obiettivi fissati dal tagging climatico. Quindi in coerenza eh con il regolamento 241 del 2021. Eh possono quindi essere richieste a contributo anche spese di capitale circolante. In questo caso però nel limite del 20% del progetto di spesa ammissibile. E all'interno eh diciamo di questa categoria eh rientrano le materie prime, i materiali di consumo, i semilavorati ma anche i canoni di locazione e le utenze ovviamente relativi all'unità locale del progetto, le prestazioni di servizi connesse all'attività agevolata e le spese per le nuove assunzioni. Quindi personale dipendente che deve essere assunto appunto a tempo indeterminato e che non deve ovviamente eh percepire altre eh agevolazioni ed altri benefici. Per quanto riguarda la concessione e l'erogazione del contributo ovviamente le agevolazioni sono concesse a seguito del decreto di pubblicazione delle graduatorie adottato dal Ministero della Cultura. Successivamente Invitalia invierà quindi a mezzo PEC il provvedimento di concessione alle agevolazioni che dovrà essere formalmente accettato dal soggetto realizzatore entro 30 giorni dall'invio dello stesso. La rendicontazione ehm del del contributo avverrà mediante la presentazione di titoli quitanzati quindi spese già sostenute dal soggetto realizzatore e questa diciamo l'erogazione del contributo potrà avverrà ovviamente su richiesta del soggetto realizzatore e potrà prevedere degli stati di avanzamento lavori. Eh questi dovranno essere al massimo pari a 2 e è però fatta salva la possibilità di richiedere eh un primo contributo a quota diciamo di ehm anticipazione eh però nella misura non superiore al 10% del contributo concesso. Questa richiesta dovrà tuttavia essere presentata entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del provvedimento. Eh la richiesta invece dell'ultima quota quindi del saldo dovrà essere presentata entro tre mesi dalla data di ultimazione del progetto che ricordiamo essere 18 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del provvedimento e comunque entro il limite del 31 12 2025. Eh alcuni allegati utili ehm per la linea di intervento quindi per la misura eh sono sicuramente il decreto 497 del 12 maggio e l'avviso pubblico allegato e le FAQ eh presenti sul sito di Invitalia che sono state appunto pubblicate molto molto recentemente. Eh per reperire diciamo le informazioni necessarie alla la misura ricordiamo sempre che sul sito di Invitalia c'è una sezione apposita dedicata alla misura quindi imprese Borghi PNRR dove è possibile eh di fatto reperire tutta la documentazione normativa quindi il decreto, l'avviso, gli allegati eh utili anche a diciamo reperire informazioni sul sui progetti eh eh realizzati dai comuni quindi l'allegato 3 ma anche tutta eh diciamo la modulistica necessaria da allegare assieme alla presentazione della della domanda. Eh è presente anche un numero azzurro da poter chiamare eh oppure la modalità di presentazione di domande eh tramite sempre il sito sito web sul CRM. Quindi di fatto ehm il il un soggetto che vuole presentare domanda può autenticarsi sul sito di Invitalia tramite Speed e presentare eh diciamo le le sue domande le sue dubbi le sue complessità su questa eh piattaforma CRM. Ok. Bene. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Grazie dottoressa Cecchetti è stata molto chiara abbiamo delle delle domande già in chat e prima di tutto prima di passare le domande eh le volevo chiedere da un lato visto che ce lo chiedono se mh è possibile mettere a disposizione queste slide o se lo sono già sul sito di Invitalia altrimenti le chiederemmo nella versione definitiva che le voglia rivedere comunque eh di consegnarceli in modo tale che noi le mettiamo le pubblichiamo anche sul sito della regione nella nella parte dedicata al PNRR a questi avvisi quindi così rispondiamo. Certo certo non sono disponibili sul sito di Invitalia ma non c'è nessun nessun problema insomma possiamo inviare dopo la la la. Sì perfetto perché in questo modo può essere utile anche per i comuni che vogliano comunque fare ulteriormente la cassa di risonanza più diciamo dettagliata sul loro territorio che sono molto chiare semplici e quindi vanno molto bene. Prima di passare alle domande e risposte io darei la parola alla dottoressa Valentina Galloni di Ance Emilia Romagna per un saluto e alcune considerazioni. Buongiorno a tutti. Beh innanzitutto io ringrazio tantissimo chi mi ha preceduta la dottoressa Ambrosini, il dottor Orlando e anche la dottoressa Cecchetti per questa davvero esauriente presentazione. Io mi scuso da parte dell'avvocato Gallo perché appunto non è potuto essere presente qui con noi però insomma vi saluta e da parte di Anci porterò via solo pochissime parole siamo molto felici di essere qui perché questo è un bando effettivamente importantissimo una grande occasione crediamo per i territori perché rafforza questo sistema di relazioni nel quale appunto anche la cultura è ma la cultura come sappiamo ogni istituzione culturale è in un sistema sociale economico e rafforzare questa rete di relazioni questi nodi della rete fa sì che naturalmente tutti gli attori possano lavorare meglio. Quindi Anci è diciamo al fianco della regione per la nostra competenza e la nostra sensibilità insomma a disposizione dei territori per cui io mi propongo così insomma come come fate di noi quello che insomma che vi serve ci saremo sempre e ringrazio davvero il ministero per questa grande opportunità che sta dando anche al nostro territorio grazie 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 valentina allora comincerei a leggere le domande a due domande abbiamo risposto ma comunque chiediamo chiediamo conferma le vedete anche voi ingegnero Orlando e la dottoressa Cecchetti allora abbiamo risposto le slide saranno messe a disposizione comunque sul sito settore patrimonio culturale della regione Emilia Romagna a breve quando ci verranno appunto consegnate poi nella prima domanda è stata chiarita comunque nella nella presentazione chiedono appunto se il soggetto che si presenta deve essere insediato o comunque impegnare ad insediarsi nel comune vincitore del bando borghi linea B o nel borgo avevamo anticipato la risposta nel comune a cui afferisce il borgo quindi anche in aree di territorio del comune che non siano afferenti al borgo storico all'insediamento storico risultato diciamo protagonista del progetto confermate quindi questo ovviamente certo e poi le slide saranno disponibili abbiamo detto un'altra domanda che ci viene posta da Alessandro Gallo buongiorno una micro impresa quindi può candidare da sola il suo progetto per un valore massimo a 150 mila euro oppure è obbligata a rientrare in un progetto di rete? Certo forse faccio chiarezza perché ho visto anche poi dopo c'è un'altra domanda molto simile la possibilità di presentare un progetto attraverso la rete quindi l'aggregazione è una possibilità aggiuntiva nel senso che volendo i soggetti realizzatori possono creare una rete però ovviamente qualsiasi realtà che sia una micro piccola o media impresa può presentare il progetto anche in forma singola quindi diciamo quella dell'aggregazione è una possibilità aggiuntiva ma è ovvio che poi è possibile presentare per tutte le imprese un progetto in maniera singola ovviamente con un massimo di programma di spesa confermo pari a 150 mila euro assolutamente sì Per una domanda la pongo io perché penso sia utile chiarire quindi chi scelga invece di presentare il progetto singolo ma in forma aggregata cioè che comunque un progetto che dialoghi e si interconnetta almeno altri tre e non più di cinque vuol dire che deve fornire comunque sulla piattaforma la documentazione attestante l'accordo fatto quindi io posso immaginare tre soggetti che presentano tutti e tre nella loro domanda il pdf firmato digitalmente dello stesso accordo quindi non basta che rappresenti uno devono deve esserci in tutte e tre le proposte giusto lo stesso accordo esatto confermo perché come dicevo anche durante la presentazione i progetti verranno valutati singolarmente nella loro diciamo autoconsistenza quindi ovviamente dovrà essere indicato nella scheda progetto l'appartenenza a una rete e quindi una volta diciamo valutati diciamo singolarmente verranno valutate anche le finalità comuni dell'aggregazione e quindi in quel caso qualora venga appunto indicato nella scheda progetto l'appartenenza a una rete deve essere presente una documentazione a supporto di questa collaborazione instaurata quindi tutti e tre i soggetti dovranno ovviamente allegare alla documentazione anche la lettera di accordo e facciamo anche chiarezza sul programma di spesa perché a volte è una domanda che ci viene fatta ovviamente valutando anche i singoli progetti nella loro funzionalità ciascuno dei tre soggetti facciamo esempio che voglia presentare un progetto in aggregazione potrà presentare un programma di spesa pari a 150.000 euro ovviamente poi verranno appunto valutati singolarmente ma verrà valutata anche la finalità dell'aggregazione va precisato che nella malaugurata ipotesi che uno dei soggetti aggregatori possa avere successivamente non possa avere più requisiti o cado o va in qualche inflazione non va a incidere sulle altre proprio perché la valutazione è autonoma dei singoli aggregati quindi non incide sugli altri perfetto se ci sono altre domande che vogliono essere espresse direttamente prego altrimenti ho anche magari dei componenti presenti dei comuni che vogliano magari dare delle indicazioni o esplicitare dei dubbi o sulle forme per stimolare le progettualità di questo bando è il momento credo sia possibile anche che nelle forme aggregate ci siano micro imprese e magari un'associazione cioè possiamo immaginare delle forme miste di aggregazione giusto cioè magari prendendo spunto da attività azioni progetti già attuati nel comune con il borgo a cui si voglia dare una continuità io immagino anche dei contesti in cui progetti magari finanziati o da qualche fondazione locale o con contributi comunali avevano già allenato e messo alla prova delle realtà locali miste e che adesso potrebbero riprendere vigore cogliendo questa opportunità che è veramente notevole soprattutto pensando all'occupazione giovanile, all'occupazione femminile e a tutta una serie di attività imprenditoriali che possono davvero essere utili per rinvigorire l'appetibilità anche di essere residenti in questi luoghi ecco che spuntano delle domande Buongiorno, in caso di progetti in rete va formalmente costituita una TS? No, nel senso che non è richiesto di unire le realtà dei soggetti realizzatori quindi anche per rispondere alla domanda di prima le reti possono ovviamente essere composti da soggetti che hanno varie forme giuridiche quindi un'impresa assieme a un'associazione il punto di attenzione secondo me da dare è che una cosa è il progetto presentato in aggregazione dove i singoli soggetti attuatori che fanno parte dell'aggregazione devono presentare domanda sulla misura con degli obiettivi comuni altro discorso invece sono le collaborazioni e le partnership quindi un soggetto realizzatore che presenta domanda e magari ha una rete di collaborazione sul territorio può presentare delle domande, della documentazione a supporto di queste collaborazioni che ha e queste verranno valutate come collaborazione quindi come partnership a supporto del proprio progetto e quindi non è necessario ovviamente che gli altri soggetti con cui ha una collaborazione partecipano alla misura quindi una cosa è il progetto in aggregazione dove tutti i soggetti che fanno parte della rete devono presentare un proprio progetto autonomo un'altra cosa invece sono le collaborazioni che una realtà può avere sul territorio e quindi può presentare di fatto delle lettere di sostegno non so se sono stata chiara nella specifica ecco poi c'è una domanda posso sentire, mi scusi dottoressa Ambrosini prima una questione relativamente sempre alle partnership e a partner non possono presentare domanda i partner che sono stati indicati dai comuni nel loro progetto di riqualificazione nelle categorie quelle che noi chiamiamo C1 e C2 ossia accordi già filmati oppure impegno all'accordo mentre chi ha dato il sostegno diciamo a titolo gratuito nella categoria C3 che è stato indicato questi qua possono presentare eventualmente una domanda per l'avviso di sostenibilità delle imprese bene grazie dal comune di Ventasso ci chiedono buongiorno in relazione a spese per riqualificazione di edifici si richiede se il soggetto richiedente debba essere proprietario dell'immobile oppure se vi sono ulteriori titoli che possano ammettere l'ammissibilità delle spese ad esempio affitto comodato eccetera allora su questo facciamo una piccola precisazione il titolo di disponibilità come premessa insomma non è una documentazione richiesta in fase di presentazione della domanda quindi precisiamo che tutta la documentazione a supporto ovviamente del titolo di disponibilità sarà richiesta ma sarà richiesta in fase di rendicontazione premesso ciò diciamo come titolo di disponibilità ammissibile noi richiediamo appunto un titolo di disponibilità che sia intestato alla società proponente tramite o diciamo un contratto di locazione o un atto di proprietà dell'immobile quindi di fatto qualora un soggetto magari fisico possiamo fare un esempio concreto ad esempio l'immobile è di proprietà di uno dei soci dell'impresa che intende presentare il progetto dovrà essere previsto poi o un contratto di locazione o una donazione dell'immobile alla società non è ammissibile un comodato d'uso gratuito quindi in qualche modo dovrà essere previsto un titolo di disponibilità che abbia appunto che sia intestato di fatto al soggetto proponente quindi tramite ad esempio anche una locazione e poi dovrà avere ovviamente una durata congrua con la realizzazione del progetto quindi almeno di tre anni però ripeto questa documentazione verrà insomma richiesta in una fase successiva qualora il progetto poi entri in graduatore e sia ammesso ovviamente l'immobile deve avere le caratteristiche urbanistiche tutte regolari e corrette quindi non procedure di condono in corso ecco eventualmente ci sono altre domande? è tutto chiaro? posso fare un quesito? certo nel caso di specie diciamo così c'è un esercente che ha il fabbricato dove ha l'attività che è intestato alla moglie e quindi lui non compare come può risolvere la condizione con il comodato duro gratuito? allora il comodato duro gratuito diciamo non è una modalità che solitamente diciamo è ammissibile per noi a meno che appunto il bene non sia di un ente pubblico in questo caso potrebbe diciamo optare anche per una locazione ora noi non è che entriamo nel merito dei termini della locazione però prevedere un tipo di locazione in cui di fatto l'immobile viene insomma dato alla società proponente quindi di fatto noi richiediamo il titolo di disponibilità che sia intestato alla società quindi anche non lo so prevedere una locazione di un qualche tipo quindi il requisito che noi richiediamo è questo qui ora i termini magari nello specifico potranno essere visti anche non lo so da un magari da un consulente però diciamo il requisito documentale che noi richiediamo è questo grazie prego i rappresentanti dei comuni che stanno partecipando riescono a darci un riscontro rispetto al non so se ci sono soggetti che stanno venendo a chiedere o stanno reagendo in qualche modo si informano cosa possiamo fare per aiutarvi per quanto riguarda il comune di Pianello Valtidone è stato fatto un incontro pubblico proprio aperto a tutte le titte e le associazioni a cui erano presenti parecchie persone e in diversi sono si sono detti interessati alla cosa chiaramente abbiamo spiegato hanno spiegato un po' la situazione quindi com'è un po' questo finanziamento c'è stato un unico inghippo ma l'ho capito oggi da questo incontro ovvero l'obbligatorietà o meno della rete quindi fare almeno tre associazioni o microimprese invece ho visto che avete chiarito che anche una singola associazione o una singola microimpresa può presentare la domanda quindi questo lo chiariremo subito a chi era presente però l'interesse a meno c'è stato vediamo un attimo adesso come funzionerà grazie per noi è molto utile ma penso anche per il ministero voi tenete presente che i canali sono sempre aperti quindi se possiamo fare a livello che siamo da passaggio da anello di congiunzione l'unità di missione del MIC è molto disponibile e risponde in tempo reale noi lo stiamo sperimentando da tempo quindi questo è davvero un'occasione molto molto rilevante e studiata su misura appunto sui piccoli centri quindi non esitate per quanto riguarda noi come regione a scriverci in particolare l'architetto Laura Biaggi che si impegna appunto a raccogliere il tutto e poi vediamo se possiamo darvi una mano noi come regione o comunque passiamo al ministero e rimaniamo connessi ok grazie prego ci sono altre questioni che volete affrontare o altrimenti ci salutiamo va bene allora io ringrazio di nuovo l'ingegnere Orlando la dottoressa Cecchetti la dottoressa Galloni speriamo appunto di aver offerto un momento di un focus utile di chiarimenti e di presentazione ecco c'è un tecnico che alza la mano prego si è ancora in comune di Pienello mi scusi proprio perché quando il dottore Orlando ha detto il discorso di chi era già collegato al nostro progetto non può presentare ovviamente domanda singola ho fatto passare un attimo velocemente il nostro progetto che è abbastanza grosso ma ci sono arrivato adesso e ho notato che c'è un'associazione che è una società che ha in gestione attualmente la nostra piscina il nostro centro sportivo che ha dato una collaborazione al nostro progetto perché appunto si vogliono sviluppare diverse attività la loro collaborazione rientra nell'allegato C2 quindi a questo punto devo ritenere che loro non possono presentare domanda no ok perfetto bene allora insieme alle slide metteremo a disposizione anche la registrazione di questo incontro e riconfermo la piena disponibilità a rispondere a passare dei quesiti a raccoglierli a organizzare anche dei tavoli per affrontare temi specifici se ritenete vi ringrazio tutti per la partecipazione e auguro a tutti una buona estate non oso dire calda perché non c'è bisogno e a tutti e niente grazie grazie a tutti e buon lavoro arrivederci grazie dottoressa ecco prima volevo salutare anche io e ringraziarvi ringraziare lei e ringraziare anche l'Ange e tutti i comuni e un invito ai comuni soprattutto di fare la cassa di risonanza per questo avviso e ripeto quello che ho già detto ripeto ripetisco di mettere in condizione le imprese e gli operatori economici diciamo che vogliono stabilire o consolidare la loro attività presso i vostri comuni di poter fare le proposte progettuali nel miglior modo possibile quindi un invito ai comuni di organizzare noi ecco diamo la nostra disponibilità anche ad eventuali ulteriori incontri che si volessero fare anche a livello di singolo di singolo comuni quindi ancora grazie per questo evento e grazie al dottore Samprosini buona giornata a tutti e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie 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 a tutti